30 secondi alla generazione dei minion Oh, non so come commentare Quindi metterò un po' di Cugino Urf molto fieri Vai ragazzi, commentate Cugino Urf per Kagekas Taggate Kagekas E fateli un Cugino Urf anche voi Ehm Che ne pensi dei giochi tipo Darksiders Un gioco che io adoro E io non ci ho mai giocato Ho chiuso live se non laggavo, quindi non ti sento Ma entra in vocal Così mi senti da lì Dai Mi fa laggare, ma com'è possibile Ho un portatile di 11 anni fa Vabbè, niente ragazzi Ehm, non so, si può fare la speedrun Su Darksiders Allora ci giochiamo È un videogioco su cui speedrunnare Consigliamene tu uno, Tocraft A me piacerebbe fare le speedrunn tipo su, che ne so, divinity Sui survival con una storia Quelli lì Non tipo Minecraft che Vabbè, devi andare a ammazzare il drago Ma non c'è una storia, capito? Qualcosa che comunque Una run non ti dura Pochi minuti Può durare anche, che ne so, massimo due ore Ok Spacchiamo tutto Guardate quanto è forte Trandol I primi livelli Cioè guardate con che velocità Con che arguzia Con che velocità Si destreggia con questa mazza Con questo bastone Ma che cazzo di Toplane è questa? Scusate, come faccio? Ma cosa sta succedendo Toplane? Lulu contro Senna e vince Lulu Toplane Wow, che Toplaner Ma si sono evoluti Toplane nel 2021? Ma che cazzo Che giumenta Uno streamer ci ha messo 8 ore E non l'ha finito Quello bello da speedrunnare Quale? Ne ho detti tanti Ah, Winnie the Pooh Almeno cosa sia Ah Grazie Easy peasy Lui non aveva fatto il red? Ragazzi Questo è free red per me Io non ho ancora usato uno smite Tra l'altro Questo è free red per me E poi lo aspettiamo qua Mo' lo aspettiamo qua Uh, gli ho interrotto la E Attenzione Mazzate sulla testa proprio Benissimo E Kane è fuori dal gioco Buono, buono, buono Questo È un ottimo start Quello Ma Ok Sapete cosa possiamo fare mo? E mo' aspettiamo pure Senna Chiedi sicuramente non ha il flash Torna in lane E ammazziamo pure lei Ne buttiamo fuori dal gioco Due in una botta sola Entercase si presterebbe L'unico L'ultimo capitolo potrebbe anche piacere di più degli altri Less ping ever Ah, sta pure laggando Benissimo Infieriamo ancora di più Ormai Aspettate tutto sto tempo Eh, perché la grafica è stile lol Anche se è consigliabile giocare Addios Niente, non si gioca qui Cioè, Trundle Trundle la clava Proprio dentro la giungla Non potete farci nulla Ciao Sbiriale Buonasera Rando la clava Guardate qua che bellezza Stop ping Lulu Perché ping così tanto sta tizia raga? Cosa l'hai preso? Eh, I killed Senna Didn't you see? Non si è accorta che io ho ucciso Senna Trano Ecco perché pensa che sia missata Perché non tornava in lenda un po' Ma C'era un problemino Senna intanto ha 4 di farm Fuori di testa Puoi giocare Senna top Devi farlo con lo porca build Cosa sto facendo Stigi? Guarda in alto a sinistra La grafica Oh porca build Non l'ho visto? Stiamo facendo Trundle Con lo porca build Qualcuno non se n'era accorto Come pensavi che lo facessi? Cugino conosci un programma chiamato X Factor? No, non l'ho mai sentito Adesso è più grande Lo vedi meglio così? Stigi? Ecco Cosa ne pensi? Ora si vede Si legge meglio Ciao team Buonasera Trolliamo un pochino Non era con la gore drinker? Sigi non sei stata Non sei stata attenta Il gore drinker è stato nerfato E ho annunciato Proprio i giorni scorsi Che appunto La Lo porca build Adesso è consigliabile farlo con la trinity Che anche prima Lo porca build Si faceva con la trinity Ora È consigliabile farlo sempre Con la trinity Aspetta Mi sa che tu non hai mai visto La trinity La Lo porca build Quando avremo la sezione news Queste cose Questi problemi Non si porranno 8 a 0 Sì ragazzi Tanta roba Ehi rap Voglio farti vedere una clip Va bene Va bene Ragazzi ve lo ripeto Lo porca build Ora Vi consiglio Di usare la trinity Che comunque È sempre stata forte Anche prima lo era Però prima Giocavo sempre solo gore drinker Perché mi piaceva di più Questo non vuol dire Che adesso non sia forte È sicuramente più debole Di prima Il gore drinker Ma se vi piace Potete comunque usarlo No se più smiteiamo Sta merda Andiamo a gankare bot Dai Siamo al 6 In ogni caso Mi raccomando Date un occhio Che io ho già aggiornato La pagina Dello porca build E vedrete che La trinity È messa prima Del gore drink Sai che Kane è andato a Huff Perché Non ha preso il blu Dopo la sua seconda morte Non è più apparso No forse Forse è apparso È andato dopo un attimo Vabbè Che stanno facendo Tutti No botter Siamo? Mi sa che non c'è più nessuno Però Ok Qualcuno c'è Oh va bene Peccato Ok 200 gold Alla trinity Ricky ci parla Delle tue nuove cuffie Sono queste Ecco Ve ne ho parlato Piacciono? Bene Ho due mesi Che ti seguo Eh sì Se non due mesi Che mi segui Jesse Pensavi di più? O pensavi di meno? Limit testing Assolutamente Sono già passati sei mesi Eh sì Ragazzi È tornato il protegge LP Mi raccomando Potete Adesso Proteggere i vostri LP Donando fino a 2000 LP Al giorno Nel protegge LP Luca 97 Sblocca il dado Grande Luca Va bene Dopo giriamo Tiriamo il dado per te Luca E adesso potete donare I vostri LP Lì così Non Avete tipo Timore di perdere I vostri punti Perché li sprecate Nelle ruote O in qualsiasi cazzata Li usiate Però non c'è più questo problema Basta Metterli nel protegge LP Inoltre C'è una nuova ricompensa Vi consiglio di dare un occhio Alla ricompensa Che adesso si chiama tipo Luca 97 È sbronzo Ok Quella ricompensa Cambia nome Ogni volta che qualcuno di voi La riscatta E si chiamerà Col nome della persona Che la riscatta E guadagnerà quindi Il titolo Di possedere una ricompensa A fine live La persona Che avrà quella ricompensa Guadagnata Gnam Adesso ti mangio Perché basta Mo basta A fine live La persona che possiede Quella ricompensa Avrà un giro di ruota Gratis Quindi è come se Voi pagate un giro di ruota Solamente 50 punti Fateci Un pensierino Inoltre c'è una nuova ricompensa Ragazzi Ovvero il messaggio vocale Gratuito Andatevelo a cercare Potete riscattare Il messaggio vocale Gratis Quindi tante robe nuove E le ruote Sono per sempre In sconto Non costeranno più 1.500 Ma costano 1.300 1.300 Ma aumentano Di prezzo Quindi ogni volta Che viene riscattata La ruota Costa 10 in più Poi ovviamente Ogni live si reset E torna a 1.300 Però ogni volta Torna A 10 Cioè ogni volta Che viene riscattata Costa 10 in più Quindi quelli che la riscattano Per primi Verso inizio live Così ovviamente La pagano di meno Quindi tutte queste cose Oggi Tutto bene fiamma Tutto bene Siamo ripresi dagli scam Scorsi Ah domani niente Abbiamo fatto tantissime novità In un solo giorno Quindi Non possiamo sfornare Roba in continuazione È già tanto Se riusciamo a fare Tutta sta roba qua Fra contact Ha riscattato il vocale Per dire Caro Riki Dimmi quanto costano Le tue nuove cuffie E che marca sono Va bene va bene Purtroppo Pantone ci fotte Sempre con le sue Abilità difensive Fra contact Queste cuffie Non sono nuove Sono le stesse Che avevo Che ho usato Negli ultimi 40 mesi Sul serio Sono sempre le stesse cuffie L'unica cosa che ti dico È che semplicemente Le ho ricomprate Perché le altre Mi sono rotte Dopo tre anni Capito Sono le stesse Identiche cuffie Che ho usato Per tre anni Non sono nuove Sono nuove Perché sono nuove Le ho appena comprate Ma sono le stesse Identiche La stessa identica marca Scritta in descrizione Nel canale Non è cambiata Ciao Elfrancone Buonasera Cugino Non è gratis Il messaggio vocale Però Come non è gratis Fabietto Perché non è gratis Scoprilo tu Se è gratis Riscattalo Se hai le palle Potrebbe essere Tutto uno scam Oppure no Chi lo sa Sarà gratis davvero? Il gino Ci prende in giro? Un messaggio vocale Che costa 20.000 punti? Chi lo sa Ciao Tema TemaX Buonasera Una ricompensa Per chi ha le palle E mo' non si va più Da nessuna parte Volano i piccioni Vediamo un po' Io non ci passo? Ok sì Guarda come ti mordo Vieni qua che ti mordo Fatti mordere Vieni qua Vieni mordo anche te È morto Oh porchi Sono ancora in vita E come vedete Il signor Killsan Ha riscattato il vocale E niente È stato gratis Killsan Puoi anche non dire niente Puoi anche fare il sus E dire Sì Oppure no Puoi scegliere tu Nessuno saprà Se stai dicendo la verità Finché loro stessi Non lo riscatteranno Non si è sentito l'audio Io l'ho sentito Forse non l'hai sentito tu Perché era basso il vocale Era bassissimo Sì vabbè adesso l'ho rialzato Purtroppo te l'ho detto Ieri ho avuto dei problemi Con le cuffie Quindi oggi i vocali Gli audio Sono un pochino sballati Ma non di tanto ragazzi Non vi preoccupate Adesso piano piano Che riscattate le cose Le alzo e le riabbasso In modo che si senta tutto Gli audio sono bassi Lo so lo so ragazzi Non vi preoccupate Lo sento anche io Adesso l'ho rialzato un pochino Mo l'avete sentito Aha che divertente L'ho sentito bene Il giro di ruota deve essere basso Questa è troppo alta Va bene Questa è un pochino alta Però va bene Quindi l'unico sarà quello Aha andiamo insieme in giro Vieni qua adesso ti mordo Morsicato proprio Sulle chiappe Cugino mi fa troppo stanno Vedere la visuale Da spettatore E non da mod E allora Mettiti quella da mod Va Cugino ma come mai Il nome cugino rap Prova a fare punto esclamativo Nome E c'è tutta la spiegazione Oggi ho trovato un ADC bravo E saperlo usavo Yumi Invece era Serapin Ok Questo è un peccato Comunque tu non devi mai Prendere un champion Solo perché pensi Che il tuo ADC Non sia bravo Prendi Yumi lo stesso No Al massimo vai sul mid laner Cioè Funziona così Yumi Per quello che è il champion Più forte del gioco Ciao demon Buonasera Benvenuto Grazie il forno Io stasera gratis sono Bravissimo Bravissimo E il francone Ecco qua C'è il punto esclamativo nome Eccolo lì Se l'ha fatto parv Bravi Leggete tutto E' scritto sopra E' stato riscattato Un sondaggio in chat Grazie cugino Anzi raptor Chi sarà la prossima vittima di rap E che ne so zio Ok Sondaggio Per voi mod Ok Vi ricordo ragazzi Che domani C'è il torneo di discord E ci sono gli ultimi Proprio le ultime ore Per partecipare Quindi Punto esclamativo torneo Se volete partecipare Gratis Non serve essere sub Non serve niente L'importante E' che mi seguiate su twitch E siate nel discord Fine Non serve altro Voi potete anche Odiarmi Fanculo Però potete partecipare Come l'ho rubata Quella kill Flash smite Per non lasciargli La agenza Demonsone 04 Ha riscattato Il vocale Per diro Ma se sono Un bidone Chi è un bidone Se è un bidone Fa niente Sai Lelo massimo Per giocare al torneo E platino 4 Vai a vedere I partecipanti Che sempre ritrovi Punto esclamativo torneo Puoi vedere anche I partecipanti E vedi E vedi l'elo degli altri E dici Ok Gli altri sono troppo più forti di me E via Ma ricordi che sono delle 1v1 È un torneo 1v1 Lelo Nelle 1v1 Non conta un cazzo Ok Cioè Importa il campione che tu prendi Contro il matchup Quello al massimo Cioè È una cosa che Non è che Chi è di lelo più alto È abituato a fare Gli 1v1 In Aram Che si parte già dal 3 Con 1300 gold Non è una cosa A cui si è abituati A meno che Voi non facciate 1v1 Tutto il tempo Con i vostri amici Allora siete Anche se siete bronzo Avete una marcia in più Io domani dovrei studiare 5 materie Ma ci sarò comunque Per il torneo Oh Bravo Kagekas Ma quindi Kagekas Ci senti adesso? Importa anche avere Meno di 180 ping Assolutamente sì Vabbè Importa anche avere Due mani Due piedi Insomma Delle articolazioni Con cui poter Insomma Utilizzare L'attrezzatura Deve andare Ciao sorry Va bene Allora niente modo per te Tokaraf Addio Stai balsando Ballando Buonasera Comunque Avevo letto dei messaggi In chat molto interessanti Buonasera Come sta? Non so Ma un Silas Con l'ail of blade Mi intriga Ciao Sello Silas con l'ail of blade Dici? Aspetta che mordo Mordo il culetto Miam Ecco qua Morsa Silas con l'ail of blade Se ti intriga tanto C'è la ricompensa Che si chiama Proponi un pick Ok Tu puoi riscattarla E propormi Silas E magari poi Lo giocherò Comunque Questi bronzi Che abbiamo in team Adesso sono più bravi Del silver Che trovo nei miei game Hai visto? Ma io te lo dico sempre I bronzi Sono in realtà C'è Proprio come si Come si dire Come dire Cioè dentro di loro Eh Loro Nascondono delle abilità uniche Perché alcuni Sono molto creativi Alcuni bronzi Fanno Fanno delle idee Fuori dal comune Però A causa di quelle idee Non riescono a salire Magari di elo Però in realtà Con delle persone Che sanno giocare in team Riuscirebbero A fare un sacco Di roba figa Infatti guarda Questa Lulutop Cioè L'ho anche aiutata Infatti guarda qua Com'è l'ha disintegrata Ma se sono un bidone Sono un let Ciao capo tor Buonasera Ben arrivato Cimine senza arti Eh sì Assolutamente Guarda Sono proprio una persona Cattiva I'm lagging Ma i ping 600 Ma non lo so Ce lo chiede a noi Quindi che dobbiamo fare qua Mordo Voglio mordere qualcuno Mordo Mordo Perfetto ragazzi Morsi tutti Da trundle Scherzo ok Colice censurato Io vado tra un paio d'ore Sono qui Lascio la leve aperta E devi farmare i punti Bravo Tm Grazie mille Ti becchiamo dopo Allora Colice censurato Mordere il culetto Axia Sì non so Poi magari Axia Ha solo piume Quindi il culetto non ce l'ha I silver sono bronzi Che conoscono il gioco I silver sono bronzi Con qualche LP in più Esatto Il silver sono sbronzi Sbiaditi Mordi qualche culetto Ma che performance potente Bella lì Buonasera Livornese Allora Signor Kat Devolved Hai fatto il gold? Dopo questa due insieme Cioè mi aspetto come minimo Lebi ha fatto il gold Cosa sei? No 28 LP Quanti ne hai vinti? Scusa Ma non giochi molto ranked Una Due Quali dove sarà? Solo due ranked Hai fatto 14 LP Vabbò Bravo Va bene Allora Addios Ciao Kat Bene 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 Allora andiamo